weh non fare il magazzino muffito da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi mamma mia quanta roba che hanno inserito nelle ultime ore nei file di gioco di fortnite incredibile il numero di skin emote coperture per le armi gli charm ragazzi hanno aggiunto il mondo e voglio cercare di farvi vedere tutto nel video di oggi parleremo tra l'altro proprio dei nuovi charm i ciondoli i ciondoli che si possono attaccare alle armi ma anche ai veicoli per appunto abbellirli una cosa che in realtà mi già detto essere stata presa spunto da rainbow six parleremo anche della collaborazione finalmente ufficiale fortnite con it capitolo 2 lo sappiamo c'è qualcosa in game che ci fa finalmente capire che la collaborazione ci sarà e come vi anticipavo da prima ragazzi skin coperture eccetera i nuovi balli ragazzi è una cosa incredibile prima però volevo ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xuderone grazie di cuore ragazzi per supportarmi nello shop mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima è la ve la devo fare la domandina ve la devo fare non posso non farvela domandina ragazzi molto molto semplice non mi inondate di commenti qua sotto domandina easy a che livello sei arrivato del pass battaglia come siete messi ragazzi lo sappiamo si possono ottenere le stelline del pass con le sfide che vengono proposte ogni tot giorni voi come siete io sono a livello 81 quindi 19 livelli ancora e finalmente troverò prenderò anzi la mia skin preferita che è il cavaliere dorato veramente troppo troppo bella non vedo l'ora di arrivarci ma quindi ciancio le bande e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a parlare della nuova di alcune nuove skin queste addirittura con un'immagine sembrerebbe ragazzi che arriverà un nuovo set del durburger e del tomato le abbiamo già viste in più versioni la classica il tomato e il burger la versione dark tra virgolette quella che è uscita qualche settimana fa e adesso ragazzi sembra che arrivi il boxer adesso si chiamerà dur boxer ma come vedete ha la fascia con sopra il paninozzo del durburger e molto probabilmente ne arriverà anche una versione con la faccia del tomato this champion is afraid to get into a food fight questo campione non ha paura di buttarsi dentro la battaglia con il cibo ragazzi questa è una descrizione la skin è veramente tanta tanta roba a me piace veramente tantissimo e quindi non vedo l'ora di poterla vedere in game non vedo l'ora che vengano rilasciate le nuove skin dedicate a durburger e a pizza pit ma andiamo avanti con il prossimo argomento si parla della collaborazione oramai è già più di una settimana che ne parliamo più di una settimana che fu scoperto il suono la risata malefica del pagliaccio e allora da lì ci si è associati al fatto che esce domani se non ricordo male it versione 2 capitolo numero 2 ma in game ragazzi proprio adesso ufficialmente abbiamo questo palloncino che è veramente veramente molto molto creepy esce proprio da una grata che io sinceramente non ricordo ci sia mai stata e quando lo si va a scoppiare ragazzi ne esce fuori una risata molto molto paurosa adesso andremo a scoppiarlo ed eccola qua ragazzi è proprio la risata di it o meglio di un pagliaccio cattivo il che vuol dire appunto ragazzi che la collaborazione è confermata non sappiamo se verrà rilasciata una schina tema secondo me sì cioè al meglio tutti ce la stiamo aspettando staremo a vedere quello che succederà un'altra grande collaborazione confermata con epic games ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento e qua mettetevi comodi perché c'è veramente il mondo da vedere ragazzi si parte subito con un nuovo set liccato si chiama lime set quindi limone in poche parole la skin femminile si chiamerà lemon lime il lo zaino si chiamerà di nuovo lemon lime e la copertura le coperture una lemon lime e un'altra lemon lime juice quindi succo di limone in italiano praticamente mentre il piccone si chiamerà lemon lime 1h e sappiamo anche che sarà un piccone doppio quindi a due mani insomma non abbiamo ovviamente nessuna foto perché sono file inseriti proprio da pochissimo nei codici sorgenti ma si parla anche di una nuova versione di accordo potente la skin quella leggendaria del set volume a 11 quella con gli spuntoni in testa in poche parole ci siamo capiti qual è e abbiamo visto che hanno trovato una versione dark per quanto riguarda i codici leggiamo cube rocker punk quando noi leggiamo cube quindi cube davanti alle skin si tratta sempre di skin dark la stessa cosa era successa con il love ranger con il dark ranger che si chiamava cube ranger se non ricordo male nei file sorgenti poi ovviamente chiamato dark ranger ed ecco qua invece nei file proprio la skin relativa alla versione dark di accordo potente ma andando avanti si parla anche di qualcosa relativo ad omega o omega chiamatelo un po' la skin finale della season 4 l'unica skin finale che se non avete completato i punti esperienza necessari adesso non ricordo se era da fare sì credo punti esperienza e quindi per sbloccare tutte le varie fasi delle luci non è mai stato possibile completare non sarà più possibile ovviamente completarla perché già dalla season 5 con il ragnarok si poteva continuare anche in season 6 a sbloccare gli stili del ragnarok e poi di tutte le altre skin che sono arrivate qua si parla che c'è un back bling quindi un backpack di omega remixato che si chiama carbide black remix quindi carbide è il nome di omega nei file di gioco staremo anche qua ovviamente a vedere di che cosa si tratta ma si parla anche di una galaxy skin in versione femminile se ne era parlato solamente in concept fino ad oggi ma è inserito nei file di gioco la riga atena comando f che sta per female che vorrebbe dire femminile celestial celestial ragazzi è il nome in nei codici della skin galaxy non si chiama galaxy ma si chiama celestial e quindi probabilmente stanno lavorando anche ad una versione femminile non sappiamo altro questa è un'immagine concept che potrebbe tranquillamente avvicinarsi alla realtà ma finalmente parliamo anche degli charm i ciondoli che si possono attaccare alle armi e ai veicoli si pensava fossero a pagamento con gli sghei nello shop e invece sembrerebbe di no ragazzi perché innanzitutto gli charm scoperti sono il banner flygree dragon egg blue dragon egg red map season 10 teamwork e virus quindi questi sono i nomi dei ciondoli ma poi hanno anche questa intanto è il ciondolo il primo ciondolo inserito in game che è la coda di phoenix lo abbiamo trovato all'arrivo della season 10 proprio il giorno in cui è stata rilasciata ma invece abbiamo visto nei codici sorgenti che tutti gli charm sono relativi a delle quest quindi missioni che probabilmente come premio daranno proprio questi ciondoli magari il primo set di ciondoli ci verrà regalato mentre poi gli altri se mai ne usciranno ancora potrebbero essere acquistabili nello shop non sappiamo ovviamente altro ma le notizie oggi erano veramente incredibili io vi ringrazio per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle otto e mezza in live ciao